Erano proprietari di appartamenti, ville, auto di grossa cilindrata e moto, ma erano riusciti ad ottenere comunque un contributo all'affitto dal comune di Palermo, attestando un falso reddito e nascondendo il loro patrimonio. Sono soltanto due dei casi scoperti dalla Guardia di Finanza di Palermo in una serie di controlli contro i falsi poveri. In tutto, dopo 41 verifiche, sono state denunciate 26 persone che, senza averne diritto, avevano richiesto o ottenuto una serie di agevolazioni, attestando di rientrare in determinate fasce di reddito oppure omettendo del tutto l'indicazione di dati e notizie sul proprio patrimonio personale e familiare. I controlli sono scattati non solo a Palermo, ma anche in provincia, a Bagheria, Cefalù, Termini Merese, Corleone e Petralia Soprana. Delle 26 persone denunciate, 16 avevano dichiarato di possedere redditi inferiori alle fasce di reddito previste per ottenere l'esenzione dal ticket per prestazioni mediche. Un altro delle denunciate aveva ottenuto invece un assegno da 1.700 euro per la propria famiglia, falsificando la situazione economica. Altri cinque invece avevano dichiarato un reddito inferiore a quello ricostruito dalla Guardia di Finanza per ottenere un contributo all'acquisto dei libri di testo scolastici. Infine una persona è stata denunciata per truffa aggravata, aveva infatti simulato la condizione di cecità assoluta per poter percepire la pensione di invalidità civile e l'indenità di accompagnamento per oltre 40.000 euro.